ciao sono francesca frequento il primo anno di magistrale studio ingegneria gestionale ma diciamo che nel tempo libero un'altra passione e sono in un team di formula student ci occupiamo di realizzare ogni anno una monoposto da da corsi in stile formula quello qua dietro è il prototipo della passata stagione o meglio della stagione 2019 in quanto purtroppo lo scorso anno a causa della pandemia che c'è stata non abbiamo avuto la possibilità di portare a termine il nostro progetto siamo un team di circa 100 studenti e proveniamo più o meno da quasi tutte le varie i vari corsi di ingegneria del Politecnico quindi ingegneria elettronica ingegneria aerospaziale meccanica o anche gestionale come nel mio caso allora io nella triennale ho studiato ingegneria meccanica tuttavia da quest'anno sono passata al corso di ingegneria gestionale per la magistrale diciamo che il mondo dell'ingegneria meccanica mi appassionava come diciamo quando mi sono iscritta comunque all'università e chiaramente comunque è un chiodo fisso della mia vita tuttavia avevo più interesse diciamo ad approcciare l'argomento da un altro punto di vista e credo che forse tramite questo passaggio all'ingegneria gestionale possa essere facilitata nel vedere non solo dei concetti diciamo tecnici da un punto di vista di programmazione o comunque analisi diciamo più matematiche ma anche da da un punto di vista più economico e di gestione ecco allora diciamo che già nel periodo delle scuole superiori già anzi nel periodo delle scuole medie comunque mi piaceva la matematica mi piacevano comunque le materie diciamo scientifiche chiaramente poi sono mi sono iscritta ad un indirizzo di ad un liceo scientifico indirizzo scienze applicate e quando diciamo è giunto il momento di capire effettivamente cosa volessi fare ci sono state più vie e quella che mi ha attratto maggiormente era ingegneria in particolare era proprio ingegneria meccanica in quanto diciamo mi piacevano molto mi piacevano molto le auto diciamo i treni le cose un po più convenzionali e quindi ho deciso proprio di iscrivermi ad ingegneria quando quando decise di iscrivermi ad ingegneria diciamo che ho avuto da subito il supporto sia della mia famiglia che comunque anche dei miei amici in quanto la maggior parte dei miei amici si è iscritta anche ad ingegneria e specialmente ingegneria meccanica poi chiaramente all'inizio non viene non è forse la facoltà che che si aspettano da una ragazza in quanto chiaramente la percentuale di percentuale di ragazze è molto molto bassa però chiaramente deve essere una cosa che piace e per cui per cui si è portati e bisogna comunque seguire un po le proprie ambizioni e i propri sogni il mio sogno chiaramente sarebbe di lavorare in un ambiente diciamo industriale o comunque o inerente diciamo al mondo del motorsport come un po questo o comunque come ho detto un ambiente diciamo industriale quindi magari lavorare proprio in impianti di produzione o qualcosa di questo genere motivo perché ho diciamo ho scelto di intraprendere questo questo percorso universitario credo che il mio percorso di studi sia stato abbastanza turbolento diciamo in quanto mi sono trasferita il primo anno a Milano e sono entrata comunque in un ambiente che non conoscevo ho cercato di costruirmi un po il mio percorso da zero quindi sicuramente turbolento poi chiaro faticoso perché bisogna un po ricostruire tutto però sicuramente molto positivo e sono orgogliosa di quello che sono riuscita a fare in questi tre anni Aggettivi sicuramente tenace nelle cose abbastanza puntigliose in quanto cerco comunque di raggiungere i miei obiettivi gli obiettivi che mi sono prefissata e che questo diciamo che alcune volte è un lato positivo e altre volte un lato negativo in quanto mi impunto spesso su delle piccolezze creandomi anche mille idee o comunque castelli non veri e un altro oggettivo solare nel senso sicuramente non mi faccio abbattere dal fatto di trovarmi in un ambiente in cui non conosco persone cerco di avere un minimo di contatto con altri e cerco di conoscere nuove persone e non farmi limitare dal fatto di essere in un ambiente totalmente nuovo Allora in questi tre anni sia all'interno dell'università che poi all'interno del team diciamo che ho sempre avuto un rapporto abbastanza positivo con i miei colleghi in quanto sono sempre riuscita a creare diciamo a vivere in un ambiente abbastanza tranquillo comunque senza avere troppi problemi diciamo ma allo stesso tempo sono riuscita anche a creare delle amicizie non solo limitate diciamo a quelle cinque ore passate all'università ma anche sono riuscita a creare ecco diciamo qualcosa anche fuori Allora secondo me sì c'è un valore aggiunto nel fare comunque una facoltà in cui la maggior parte degli studenti sono ragazzi in quanto spesso diciamo che essere una ragazza ti permette di avere un occhio un po' più critico non so come definirlo però diciamo che vediamo spesso le cose da un altro punto di vista quindi serve anche in un gruppo di lavoro avere un gruppo eterogeneo in cui tutti possono dare il proprio contributo e spesso alla fine essere una ragazza da questa opportunità quindi non è limitante ecco trovarsi un ambiente in cui ci sono molti ragazzi o comunque può sembrare un ambiente in cui si è svantaggiati anzi spesso si è proprio un punto di forza Nonostante certe facoltà siano frequentate da pochi ragazze Il Politecnico sicuramente si spinge a non far pesare questi apparenti vincoli Un esempio nel mio caso è il fatto che comunque sia in un team formato prevalentemente da ragazzi ma ho trovato il mio spazio nonostante comunque sia in un reparto tecnico e io non svolgo funzioni, non svolgo delle funzioni limitate a questo infatti ho un ruolo diciamo un po' più dinamico e tendo comunque ad interfacciarmi con degli sponsor Ad oggi suggerirei di seguire lo stesso percorso che ho fatto io perché sicuramente ti apre, ti permette di avere una nuova visione delle cose non essere limitato al fatto che l'ingegneria sia comunque un mondo per soli ragazzi ma tutti possono entrarne a far parte I momenti che sicuramente ricorderò di più sono il momento peggiore, forse la mia prima bocciatura in analisi 2 che avevo rifiutato per poi essere bocciata la pelle successivo quindi non è stato il massimo e infatti mi sono anche rovinata l'estate poi per studiarla a settembre e forse il momento più bello è comunque legato al team e il fatto di essere stata in un circuito europeo essere stata ad Hockenheim e aver comunque conosciuto moltissimi altri ragazzi con cui condividiamo questa passione Credo che alle superiori si sia abbastanza vulnerabili o comunque ci si faccia influenzare abbastanza facilmente dalle idee di altre persone Nel momento in cui ho dovuto fare questa scelta moltissimi mi hanno cercato di farmi cambiare idea soprattutto sul fatto di non spostarmi totalmente o comunque non trasferirmi in un'altra città totalmente nuova senza la mia famiglia e ad oggi sono contenta di aver seguito diciamo le idee che avevo quattro anni fa e di aver intrapreso questo percorso che mi ha permesso comunque di crescere personalmente di conoscere molte persone e comunque di aiutarmi a cercare un po' la mia strada per il futuro Ciao a tutte mi raccomando iscrivetevi ad Ingegneria e ci vediamo al Politecnico Grazie